questo qui è il canale di quota 56 che va a distribuire l'acqua fino ai luoghi di sant'antonino che materialmente per come si vede l'acqua è ferma perché non c'è servizio garantito dall'enel a causa di disagi ad una turbina quando si dice la lingua batte dove il dente duole questa è una delle tante situazioni per cui alla fine il servizio da parte dell'ente non è in condizione di poter soddisfare la sua utenza ancora una volta speriamo in una vera svolta che si possa ottenere oggi in commissione bilancio speriamo che questo qui è l'imbocco dell'acqua da parte dell'enel e questa è la paratoia che gestisce poi il servizio per il consorzio di bonifica noi chiediamo veramente che ci sia la massima sensibilizzazione da parte della deputazione regionale per risolvere una situazione che ha dell'incredibile e che porta a conseguenze gravissime per l'utenza e quindi per l'agricoltura e quindi per i prodotti e l'economia locale